Massimo Bitonci, qual è la posizione della Lega Nord sul procedimento per quanto riguarda la riforma del Senato? Adesso in prima commissione è cominciato l'iter delle riforme costituzionali. Noi lo diciamo da sempre, siamo pronti a votare delle riforme che siano delle riforme sostanziali che cambino l'architettura dello Stato e della Costituzione. Certamente che questa proposta da Renzi con la modifica del Senato e anche le altre sono più delle riforme che vanno all'incontrario della proposta nostra del 2005 bocciata da referendum confermativo del 2006. Noi abbiamo sempre lavorato in questi anni ottenendo un ottimo risultato con la produzione del decreto attuativi sul federimo fiscale. Pensiamo che non ci può essere un'inversione di rotta come vuole Renzi in cui la riforma anche del titolo quinto della Costituzione vada verso un riaccentramento delle competenze e della gestione delle risorse delle regioni e gli enti locali. Il problema è esattamente il contrario, è quello di decentrale, è quello di dare maggiore autonomia a comuni e alle regioni e alle vaste. Il tema è quello di trovare una soluzione perché, come noi diciamo da tempo, ci sia un controllo della spesa ma questo si fa responsabilizzando gli amministratori locali e regionali non certamente riaccentrando tutto come vuole fare il governo Renzi.